9. 10.46. CDT. Sull'interstatale 70. Contea di Ellsworth, Kansas. A 38 chilometri a ovest di Salina, la malconcia vecchia Pontiac di Josh Hutchins emise uno stridio, come un uomo con i polmoni pieni di liquido. Josh vide la lancetta dell'indicatore della temperatura avvicinarsi rapidamente alla linea rossa. Nonostante tutti i finestrini fossero abbassati, l'interno dell'auto sembrava una sauna e la camicia di cotone bianca e i pantaloni blu scuro di Josh erano incollati al suo corpo per il sudore. Oh signore, pensò guardando salire la lancetta rossa, sta per esplodere. Sulla destra si stava avvicinando un'uscita e c'era un vecchio cartello che diceva da popo, carburante, bibite fresche, un chilometro e su cui c'era un disegno esagerato di un vecchio, seduto su un mulo, mentre fuma una pipa di pannocchia. Spero di farcela per un altro chilometro, pensò Josh guidando la Pontiac sulla rampa d'uscita. L'auto continuava a fremere e la lancetta era sul rosso, ma il radiatore non era ancora esploso. Josh guidò in direzione nord, seguendo il cartello di popo e davanti a lui, estendendosi fino all'orizzonte, c'erano immensi campi di gran turco, alti la metà di un uomo, e che stavano appassendo sotto il terribile calore di luglio. La strada di campagna a due corsie tagliava dritta in mezzo a essi e gli steli non erano mossi nemmeno da un alito di vento. Formavano dei muri impenetrabili su entrambi i lati della strada, e per quanto ne sapeva Josh avrebbero potuto continuare per centocinquanta chilometri sia a est che a ovest. La Pontiac fischiò e diede uno strattone. «Forza!» l'encitò Josh con il sudore che gli scorreva sul volto. «Forza! Non abbandonarmi adesso!» Non gli piaceva l'idea di camminare per un chilometro sotto il sole a trentasette gradi. L'avrebbero ritrovato fuso nell'asfalto come una macchia d'inchiostro. La lancetta continuò a salire e delle spie rosse d'allarme stavano lampeggiando sul cruscotto. Improvvisamente si udì un suono scricchiolante che ricordò a Josh i Rice Krispies che gli piacevano da bambino. E poi l'istante dopo il parabrezza fu ricoperto da una massa di cose marroni striscianti. Prima che Josh fosse in grado di fare un respiro sorpreso, una nuvola nera era entrata nella Pontiac dai finestrini sul lato destro. Lui fu coperto da cose striscianti, svolazzanti e rumorose che gli entrarono nel colletto della camicia, nella bocca, su per le narici e negli occhi. Sputò quelle nella bocca e se le tolse dagli occhi artigliandole con una mano, mentre l'altra teneva stretto il volante. Era il frenire più pazzesco che avesse mai sentito, un ruggito assordante di ali vibranti. Poi i suoi occhi furono liberi e riuscì a vedere che gli interni dell'auto erano ricoperti da migliaia di locuste che sciamavano su tutto il suo corpo, volando attraverso l'auto e uscendo dai finestrini sul lato sinistro. Accese i tergicristalli, ma il peso della massa di locuste li bloccò contro il vetro. Nei secondi successivi iniziarono a volare via, prima a cinque o sei alla volta, e poi di colpo l'intera massa in un vorticante tornado marrone. I tergicristalli si mossero avanti e indietro, schiacciandone alcune sfortunate che erano state troppo lente. E poi iniziò a uscire del vapore dal cofano, e la Pontiac Bonville scattò in avanti. Josh guardò la lancetta della temperatura. Al vetro c'era attaccata una locusta. Ma la lancetta era molto oltre la linea rossa. Di certo questa non si sta rivelando la mia giornata, pensò cupamente, mentre spazzava via le restanti locuste dalle braccia e dalle gambe. Anche esse volarono via dall'auto, e seguirono l'enorme nuvola che si stava muovendo sul gran turco bruciato dal sole, dirigendosi più o meno verso nord-ovest. Una di quelle cose gli volò direttamente in faccia, e le sue ali fecero il rumore di una pernacchia prima che sfrecciasse fuori dal finestrino dietro alle altre. In auto ne restava solo una ventina circa, che strisciava pigramente sul cruscotto e sul sedile passeggeri. Josh si concentrò su dove stava andando, pregando che il motore gli concedesse solo qualche altro metro. Attraverso la colonna di vapore vide un edificio di mattoni di calcestruzzo con il tetto piatto comparire alla sua destra. Davanti a esso c'erano delle pompe di carburante sotto una tettoia di tela verde. Sul tetto dell'edificio c'era un carro con estoga a grandezza reale. Estampato a grandi lettere rosse, sul fianco del carro c'era scritto Da Popo. Emise un sospiro di sollievo e imboccò il vialetto acciottolato. Ma prima di raggiungere le pompe del carburante, un tubo dell'acqua della Pontiac tossì, borbottò ed esplose contemporaneamente. Il motore fece il rumore di un secchio vuoto preso a calci e poi l'unico suono udibile fu il sibilo del vapore. Bene, pensò Josh, ecco fatto. Scese dall'auto madido di sudore e contemplò la colonna di vapore che si alzava. Quando provò ad aprire il cofano, il metallo gli bruciò la mano come un morso. Arretrò e dato che il sole infieriva da un cielo quasi bianco per la foschia creata dall'afa, Josh pensò che la sua vita avesse raggiunto il suo punto più basso. Una porta a zanzariera sbattè. «Sei finito nei guai?» domandò una voce avvizzita. Josh sollevò lo sguardo. Dall'edificio di blocchi di calcestruzzo si stava avvicinando un vecchietto con la gobba che indossava un cappello da cowboy macchiato dal sudore, una tuta da lavoro e stivali da mandriano. «Assolutamente!» rispose Josh. Lo metto, alto forse un metro e cinquantacinque, si fermò. Il suo cappello, completo di fascia in pelle di serpente e piuma d'aquila, ne inghiottiva quasi la testa. Il suo volto era bruno come l'argilla cotta al sole e gli occhi erano puntini scuri e scintillanti. «Eeeh!» esclamò con voce stridula. «Sei uno bello grosso tu, eh? Buon Dio, non ne vedevo uno grosso come te dall'ultima volta che è passato il circo!» fece un sorriso, rivelando denti piccoli e macchiati di nicotina. «Com'è il tempo là in alto?» La frustrazione sudata di Josh esplose in una risata. Fece anche lui un gran sorriso. «Lo stesso di là in basso!» rispose. «Caldissimo!» L'ometto scosse la testa ammirato e fece un giro intorno alla Bonville. Anche lui provò a sollevare il cofano, ma il caldo gli bruciò le dita. «Eeeh! È esploso un tubo!» decise. «Sì, un tubo! Ne ho visti parecchio ultimamente!» «Ne ha qualcuno di ricambio?» L'uomo piegò il collo per alzare lo sguardo, evidentemente ancora impressionato dalla statura di Josh. «No!» disse. «Nemmeno uno! Ma posso procurartene uno! Se l'ordino a Salina dovrebbe essere qui tra... due o tre ore». «Due o tre ore? Salina è a meno di cinquanta chilometri da qui!» L'ometto si strinse nelle spalle. «E' un giorno caldo. Ai ragazzi di città non piacciono. Troppo abituati all'aria condizionata. Sì, serviranno due o tre ore». «Maledizione! Sto andando a Garden City!» «È un lungo viaggio», concesse l'altro. «Beh, faremo meglio a lasciarla raffreddare un po'. Ho delle bibite fresche, se ne vuoi una». Indicò a Josh di seguirlo e si diresse verso l'edificio. Josh si era aspettato una massa accatastata di latte d'olio, vecchie batterie e un muro pieno di coprimuzzo. Ma quando entrò fu sorpreso di trovare un minimarket di campagna, pulito e ordinato. Vicino alla porta c'era un tappetino e dietro il bancone e il registratore di cassa c'era una piccola alcova, in cui l'uomo era stato seduto sulla sua sedia a dondolo a guardare la televisione su un apparecchio portatile della Sony. Al momento però sullo schermo si vedevano solo disturbi. «Quel coso mi ha abbandonato appena prima che arrivasse», disse. «Stavo guardando quel programma sull'ospedale e sulla gente che si mette sempre nei guai. Buon Dio, ti metterebbero in galera da queste parti per alcune di quelle bravate!» Ridacchiò e si tolse il cappello. La pelle della sua testa era pallida e aveva capelli bianchi che stavano dritti, umidi di sudore. «Anche tutti gli altri canali sono disturbati, per cui immagino che dovremmo parlare, eh?» «Immagino di sì». Josh si fermò davanti a un ventilatore sul bancone, lasciando che l'aria deliziosamente fresca separasse la sua camicia bagnata dalla pelle. L'ometto aprì il frigorifero e ne strasse due lattine di Coca-Cola. Ne diede una a Josh, che l'aprì e beve assetato. «Offro io», disse l'ometto. «Sembra che tu abbia avuto una mattina complicata. Mi chiamo Po-Po Briggs. Beh, Po-Po non è il mio vero nome. I miei ragazzi mi chiamano così. Ecco perché è scritto sull'insegna». «Josh Hutchins». Si strinsero la mano e l'ometto sorrise di nuovo e finse di trassalire per la stretta di Josh. «I suoi ragazzi lavorano qua con lei?» «Oh no», ridacchiò Po-Po. «Hanno un posto loro, più avanti sulla strada, a sette o otto chilometri». Josh fu grato di non essere più sotto il sole ardente. Camminò per il negozio, passandosi la lattina fredda sul volto e sentendo la carne rilassarsi. Per essere un negozio di campagna nel mezzo di un campo di Gran Turco, si rese conto dopo un momento, gli scaffali di Po-Po mostravano una straordinaria varietà di articoli. Forme di pane di grano, pane di segale, pane con l'uvetta e rotoli alla cannella. Barattoli di fagiolini, barbabietole, zucca, pesche, pezzi d'ananas e ogni genere di frutta, una trentina di tipi diversi di zuppe in scatola, barattoli di stufato di manzo, pasticcio di carne, carne in scatola e rosbif affettato, una serie di attrezzi, inclusi coltellini da cucina, grattuge per formaggio, apriscatole, torce e batterie. E uno scaffale pieno di succhi di frutta in scatola, Hawaiian Punch, succo d'uva Welch e acqua minerale in bottiglie di plastica. Una rastrelliera a parete mostrava pale, picconi e zappe, un paio di forbici da giardinaggio e un tubo dell'acqua. Vicino al registratore di cassa c'era un espositore di riviste con esposti periodici come Flying, American Pilot, Time, Newsweek, Playboy e Penthouse. Josh pensò che quel posto era il supermercato dei negozi di campagna. «Vivono tante persone nei dintorni?» chiese Josh. «Poche». Po-Po colpì il televisore con il pugno, ma i disturbi restarono. «Non troppe». Josh sentì qualcosa strisciare sotto il suo colletto, allungò una mano e tirò fuori una locusta. «Ah, quelle cose sono infernali, vero?» chiese Po-Po. «Se infilano ovunque. Negli ultimi due o tre giorni hanno continuato a volare via dai campi a migliaia. Piuttosto strano». «Sì». Josh tenè l'insetto tra le dita e andò alla porta. L'aprì e gettò fuori la locusta. Gli svolazzò intorno alla testa per un paio di secondi, fece un lieve suono stridulo e poi volò verso nord-ovest. D'un tratto una camaro rossa svoltò dalla strada, aggirò la bonville malmessa di Josh e si fermò vicino alle pompe. «Altri clienti?» annunciò Josh. «Bene, bene, sembra che oggi ci sia una vera e propria conferenza, giusto?» Girò intorno al bancone e si fermò accanto a Josh, arrivando appena all'altezza del suo sterno. Le portiere della camaro si aprirono e ne scesero una donna e una ragazzina bionda. «Ehi!» gridò verso la porta la donna, che era stretta in una canottiera rossa e jeans attillati dall'aspetto scomodo. «Posso avere della benzina senza piombo qui?» «Certo che sì!» Popo uscì per rifornirla di carburante. Josh finì la sua coca, appollottolò la lattina e la gettò nel cestino della spazzatura. Quando guardò di nuovo attraverso la porta, vide che la bambina, che indossava una piccola tuta blu, era in piedi proprio sotto il sole coccente e fissava la nuvola di locuste in movimento. La donna, con i suoi capelli biondi, tinti male, arruffati e bagnati per il sudore, prese la mano della bambina e la portò verso il negozio di Popo. Quando entrarono, Josh si spostò di lato e la donna, che aveva l'occhio destro nero, gli lanciò un'occhiata sospettosa e poi si fermò davanti al ventilatore per rinfrescarsi. La bambina alzò lo sguardo su Josh, come se stesse guardando i rami più alti di una sequoia. Josh pensò che fosse una bambina molto graziosa. I suoi occhi erano di una sfumatura di blu morbida e luminosa. Quel colore ricordò a Josh l'aspetto del cielo estivo, quando lui stesso era un bambino, con tutti i domani ancora davanti a lui e nessun posto da raggiungere con particolare fretta. Il volto della bambina era a forma di cuore e sembrava fragile, con la pelle quasi trasparente. Disse «Sei un gigante?» «Zitta, suon!» disse Darlene Prescott. «Noi non parliamo con gli sconosciuti!» Ma la bambina continuava a fissarlo, in attesa di una risposta. Josh sorrise. «Immagino di sì!» «Suonda!» Darlene afferrò la spalla di suon e la allontanò da Josh. «È una giornata calda», disse lui. «Dove siete dirette voi due?» Darlene restò in silenzio per un attimo, lasciando che l'aria fresca le colpisse il volto. «Ovunque tranne qui!» rispose con gli occhi chiusi e la testa spinta indietro per ricevere l'aria sulla gola. Popo tornò pulendosi il sudore dalla fronte con un fazzoletto molto usato. «Le ho fatto il pieno, signora! Fanno quindici dollari e settantacinque centesimi, per favore!» Darlene si frugò in tasca per prendere i soldi e suon le diede un colpetto con il gomito. «Devo andare in bagno subito!» sussurrò la bambina. Darlene mise una banconota da venti dollari sul bancone. «Ha un bagno per signore qui?» «No!» rispose Popo e abbassò gli occhi su suon, che era chiaramente un po' a disagio, e si strinse nelle spalle. «Beh, suppongo che tu possa usare il mio bagno. Aspetta un minuto!» Si abbassò e tirò via il tappeto davanti al bancone. Al di sotto c'era una botola. Popo tirò un chiavistello e l'aprì. Dalla buca aperta fuoriuscì il profumo della terra ricca e scura, e una serie di gradini di legno scendeva nel seminterrato. L'uomo scese qualche gradino, accese una lampada a soffitto, e poi tornò su. «Il bagno è dietro alla piccola porta sulla destra», disse a suon. «Vai pure». La bambina guardò sua madre, che si strinse nelle spalle e le fece cenno di scendere, e suon passò nella botola. Il seminterrato aveva pareti di terra abbattuta, e sul soffitto si incrociavano grosse travi di legno. Il pavimento era una colata di cemento, e la stanza, lunga circa sei metri, larga tre e alta circa due, due metri e mezzo, conteneva una branda, un giradischi e una radio, uno scaffale di tascabili di Louis Lamour e Brett Halliday, con gli angoli delle pagine piegati, e su una parete c'era un poster di Dolly Parton. Suon trovò la porta, ed entrò in uno stanzino che aveva un lavandino, uno specchio e un gabinetto. «Lei vive laggiù?» chiese Josh al vecchio, mentre sbirciava attraverso la botola. «Certo che sì. Abitavo in una fattoria un paio di chilometri a est, ma l'ho venduta quando è morta mia moglie. I miei ragazzi mi hanno aiutato a scavare il seminterrato. Non è molto, ma è casa.» «Oh!» fece Darlene, arricciando il naso. «Puzza come una tomba!» «Perché non vive con i suoi figli?» chiese Josh. Popo lo guardò con un'espressione strana, aggrottando la fronte. «Figli! Io non ho figli.» Pensavo avesse detto che i suoi ragazzi l'hanno aiutato a scavare il seminterrato. «I miei ragazzi l'hanno fatto, sì! Di ragazzi sotterranei! Hanno detto che mi avrebbero costruito un ottimo posto in cui vivere. Vedi, loro vengono sempre qua a rifornirsi, perché sono il negozio più vicino.» Josh non riusciva a capire il senso di quello che il vecchio stava dicendo. Tentò di nuovo. «Vengono da dove?» «Da sottoterra», rispose Popo. Josh scosse la testa. Il vecchio era pazzo. «Senta, può dare un'occhiata al mio radiatore adesso?» «Suppongo di sì. Un minuto e andremo a vedere cosa gli è successo.» Popo andò dietro al bancone, batté l'acquisto di Darlene nel registratore di cassa e le diede il resto dei venti dollari. Swan iniziò a risalire i gradini del seminterrato. Josh si preparò al caldo soffocante e uscì, dirigendosi verso la sua bonville ancora fumante. L'aveva quasi raggiunta, quando sentì la terra tremare sotto i suoi piedi. Si paralizzò. «E quello che era, si chiese, un terremoto?» «Sì, quella sarebbe stata la ciliagina sulla torta.» Il sole era brutale. La nuvola di Locusta era sparita. Dall'altro lato della strada, l'enorme campo di Gran Turco era immobile come un dipinto. Gli unici suoni erano il sibilo del vapore e il costante «tic-tic-tic» del motore fuso della Pontiac. Stringendo gli occhi nel bagliore accecante, Josh guardò il cielo. Era bianco e uniforme, come uno specchio annebbiato. Il suo cuore stava battendo più forte. La porta sbatté alle sue spalle e lui fece un salto. Darlene e Swan erano uscite e si stavano dirigendo verso la Camaro. D'improvviso anche Swan si fermò, ma Darlene fece ancora qualche passo prima di rendersi conto che la bambina non era al suo fianco. «Muoviti! Torniamo sulla strada, tesoro!» Lo sguardo della bambina era diretto verso il cielo. «È così calmo», pensò. «Così calmo». L'aria ardente la faceva quasi cadere in ginocchio. E stava avendo difficoltà a respirare. Per tutto il giorno aveva notato enormi stormi di uccelli in volo, cavalli che correvano nervosi nei loro recinti e cani che abbaiavano al cielo. Percepiva che stava per accadere qualcosa, qualcosa di molto brutto, proprio come l'era accaduto la sera prima, quando aveva visto le lucciole. Ma la sensazione si era andata rafforzando per tutta la mattinata, fin da quando avevano lasciato il motel fuori uicita. E adesso le faceva venire la pelle d'oca su braccia e gambe. Percepiva del pericolo nell'aria, nella terra, ovunque. «Suan», disse Darlene con voce sia irritata che nervosa. «Vieni qui, subito». La ragazzina fissava i campi di Gran Turco che si estendevano all'orizzonte. «Sì», pensò, «c'è pericolo anche lì, soprattutto lì». Il sangue le pompava nelle vene e fu quasi sopraffatta dall'impulso di urlare. «Pericolo», sussurrò. «Pericolo, nel Gran Turco». Il suolo tremò di nuovo sotto i piedi di Josh e lui pensò di sentire un profondo brontolio cigolante, come di un macchinario pesante che si metteva in moto. Darlene urlò, «Suan, muoviti!». «Che diavolo!», pensò Josh. Poi arrivò un rumore penetrante e lamentoso, che diventò sempre più forte. E Josh si mise le mani sulle orecchie, chiedendosi se sarebbe vissuto per vedere la sua paga. «Dio Santissimo!», gridò Popo, in piedi in mezzo alla porta. Una colonna di terra salì in aria, a circa 300 metri di distanza in mezzo al campo di Gran Turco a nord-ovest, e centinaia di stocchi presero fuoco. Emerse una lancia di fuoco. Fece il rumore del bacon che sfrigola in una padella, mentre saliva in alto di diverse decine di metri, poi si inarcò drasticamente su una rotta verso nord-ovest e sparì nella foschia. Un'altra lancia ardente esplose dal suolo, più o meno a mezzo chilometro di distanza. E questa seguì la prima. Più lontano altre due salirono in alto e si innalzarono sparendo dalla vista in un paio di secondi. Poi le lance infuocate iniziarono a risalire dall'intero campo, con la più vicina a circa 250 metri di distanza e le più lontane a 8 o 9 chilometri dall'altro lato dei campi. Dei geyser di terra esplosero quando quelle cose si innalzarono con velocità incredibile con le loro scie infuocate che lasciavano impresse delle immagini residue blu sulle retine di Josh. Il Gran Turco andava a fuoco e il caldo vento delle lance infuocate spingeva le fiamme verso il negozio di Popo. Ondate di un calore penoso si abbatterono su Josh, Darlene e Swann. La donna stava ancora gridando alla bambina di salire in auto. Quest'ultima guardava con uno stupore inorridito, mentre dozzine di lance ardenti continuavano a esplodere dal campo di Gran Turco. La terra tremava per le onde d'urto, sotto i piedi di Josh. Con i sensi vacillanti si rese conto che le lance ardenti erano missili, che uscivano ruggendo dai loro sili nascosti in un campo di Gran Turco nel Kansas, nel mezzo del nulla. «I ragazzi sotterranei», pensò Josh. E d'un tratto seppe cosa aveva voluto dire Popo Briggs. Il negozio si trovava ai bordi di un impianto missilistico mimetizzato. E i ragazzi sotterranei erano i tecnici dell'aviazione che adesso sedevano nei loro bunker, premendo i pulsanti. «Dio santissimo!» gridò Popo e la sua voce si perse nel ruggito. «Guardate come volano!» I missili continuavano a uscire dal campo, con ciascuno che seguiva l'altro in direzione nord-ovest e spariva nell'aria increspata. «La Russia», pensò Josh. «Oh mio Dio, Gesù! Stanno andando verso la Russia!» Gli tornarono in mente tutti i notiziari che aveva sentito e le storie che aveva letto negli ultimi mesi. E in quel terribile istante seppe che era iniziata la Terza Guerra Mondiale. L'aria vorticante e ostionante era piena di Gran Turco in fiamme che pioveva sulla strada e sul tetto del negozio di Popo. La tettoia di tela verde stava fumando e quella del carro Conestoga era già in fiamme. Attraverso il campo devastato si stava avvicinando una tempesta di Gran Turco in fiamme e quando le onde d'urto si scontrarono con i venti a 80 chilometri orari, le fiamme si fusero in un muro solido e rotolante alto sei metri. «Muoviti!» strillò Darlin prendendo in braccio suon. Gli occhi azzurri della bambina erano spalancati e fissi, ipnotizzati dallo spettacolo del fuoco. Darlin iniziò a correre verso la sua auto con suoni in braccio e quando un'onda d'urto la fece cadere, i primi tentacoli rossi del fuoco iniziarono ad allungarsi verso le pompe di carburante. Josh sapeva che il fuoco stava per attraversare la strada. Le pompe sarebbero esplose. Poi fu di nuovo sul campo di football, davanti alla folla ruggente della domenica pomeriggio, e stava correndo verso la donna caduta e la sua bambina, come un carro armato umano, mentre l'orologio dello stadio contava i secondi. Un'onda d'urto lo colpì. Gli fece perdere l'equilibrio e il gran turco in fiamme gli passò sopra. Poi però raccolse la donna circondandole la vita con un braccio robusto. Lei restò aggrappata alla bambina, il cui volto era paralizzato dal terrore. «Lasciami andare!» strillò Darlin, ma Josh si voltò di scatto e corse verso la porta zanzariera dove Popo era fermo a guardare a bocca aperta le lance infuocate. Josh l'aveva quasi raggiunta quando ci fu un lampo, incandescente, come di centinaia di milioni di lampadine ad alto voltaggio accese contemporaneamente. Josh stava dando le spalle al campo, ma vide la propria ombra proiettata su Popo Briggs e nell'arco di un millisecondo vide le orbite oculari del vecchio esplodere in una fiamma blu. L'uomo urlò, si artigliò il volto e cadde all'indietro dentro la porta, strappandola dai cardini. «Oddio! Oh, Josh! Oddio!» stava balbettando Darlin. La bambina era muta. La luce diventò ancora più luminosa e Josh sentì un'ondata di calore sulla schiena, all'inizio gentile, come il sole in una bella giornata estiva. Ma poi il calore aumentò al livello di un forno e prima che Josh riuscisse a raggiungere la porta. Sentì sfrigolare la pelle sulla sua schiena e sulle spalle. La luce era così intensa che non poteva vedere dove stava andando. E ora il suo volto si stava gonfiando così in fretta da temere che sarebbe esploso come un pallone da spiaggia. Avanzò incespicando, inciampò su qualcosa. Il corpo di Popo, che fremeva in agonia sulla soglia. Josh sentì l'odore di capelli bruciati e pelle ustionata. E pensò freneticamente. «Sono un figlio di puttana alla griglia!» riuscì ancora a vedere attraverso le fessure dei suoi occhi gonfi. Il mondo era di un bianco-blu inquietante. Il colore degli spettri. Davanti a lui si apriva la botola. Josh tese in basso la mano libera, afferrò il braccio del vecchio e lo trascinò insieme alla donna e alla bambina verso il quadrato aperto. Un'esplosione mandò dai frammenti a colpire il muro esterno. Le pompe, capì Josh. E una scheggia di metallo ardente gli sfrecciò accanto al lato destro della testa. Iniziò a scorrere del sangue. Ma non ebbe tempo di pensare ad altro se non entrare in quel seminterrato, perché alle sue spalle udì un'ululante cacofonia di vento, come una sinfonia di angeli caduti. E non osava girarsi per guardare cosa stesse arrivando da quel campo di Gran Turco. L'intero edificio stava tremando. E i barattoli e le bottiglie cadevano dagli scaffali. Josh gettò Popo Briggs giù per le scale, come un sacco di grano. E poi salto giù anche lui, graffiandosi il culo sul legno, ma tenendo ancora strette la donna e la bambina. Rotolarono sul pavimento, con la donna che urlava con voce spezzata e strozzata. Josh si arrampicò di nuovo per chiudere la botola. E allora guardò attraverso la porta e vide ciò che stava arrivando. Un tornado di fuoco. Riempiva il cielo, scagliando lance frastagliate di fulmini rossi e blu e trasportando con sé tonnellate di terra annerita strappata dai campi. In quell'istante seppe che il tornado stava avanzando verso il negozio di Popo, portando con sé metà della terra del campo. E li avrebbe colpiti nell'arco di qualche secondo. E semplicemente sarebbero vissuti o sarebbero morti. Josh si tese verso l'alto, chiuse la porta con forza e saltò giù dai gradini. Atterrò su un fianco sul pavimento di cemento. «Forza!» pensò con i denti serrati e le mani sopra la testa. «Forza, dannazione!» Una combinazione sinistra del potente rugito del vento vorticante, del cripitio del fuoco e del fragore rombante del tuono riempì il seminterrato, scacciando qualsiasi cosa dalla mente di Josh Hutchins, tranne il terrore gelido e crudo. Il pavimento di cemento del seminterrato tremò di colpo e poi si alzò di un metro e si frantumò come un piatto di porcellana. Ricadde in basso con forza brutale. I timpani di Josh pulsarono dolorosamente. Aprì la bocca e sapeva che stava urlando, ma non riusciva a sentirlo. Poi il tetto del seminterrato cedette e le travi scricchiolarono come ossa tra mani affamate. Josh fu colpito sulla nuca. Ebbe la sensazione di essere sollevato e fatto girare in un airplane spin, mentre le sue narici erano imbottite di cotone spesso e bagnato. E tutto quello che voleva era scendere da quel dannato ring e andare a casa. Poi perse i sensi.